Colpi di arma da fuoco contro le auto di servizio della Gori. La scoperta è stata fatta dai dipendenti l'altro ieri a ritorno al lavoro dopo i festeggiamenti del Capodanno. Le auto erano state parcheggiate in un parcheggio pubblico alla frazione San Lorenzo di Sant'Egido del Montalbino il 31 dicembre. Tre colpi di pistola contro ciascuna delle auto in sosta parcheggiate l'una accanto all'altra e che avevano ben visibile il logo della società di gestione dell'acqua nell'area nord della provincia di Salerno e del Basso Napoletano preseduta dall'avvocato Sabino De Blasi. Sei in totale i proiettili esplosi subito dopo la scoperta è scattata la denuncia ai carabinieri della tenenza di Pagani che hanno avviato le indagini. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza per risalire all'inquietante episodio avvenuto con molta probabilità nella notte tra l'ultimo dell'anno e del primo gennaio approfittando dei fuochi per i festeggiamenti di San Silvestro. Gli inquirenti stanno valutando le diverse ipotesi tra le quali oltre alla goleardata in occasione del Capodanno anche quella di un'eventuale azione intimidatoria o di ritorsione nei confronti della società che assedia del Colano. Già nel gennaio 2021 un altro episodio di cronaca interessò gli uffici dell'Agori. Quella volta in via Napoli a Nocera Inferiore anche in quella circostanza alcuni colpi di arma da fuoco una pistola calibro 9 dopo i rilevi della scientifica attinsero le vetrine dello sportello Nocerino. Anche in quella circostanza ad accorgersi dell'accaduto furono i dipendenti all'apertura degli uffici della sede di staccata del gestore del servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale sarnese vesuviano della Campania. Ora si attendono gli esiti delle indagini coordinate dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore agli ordini in questi giorni del Capitano Marco Izzo. Grazie.